ragazzi anche quest'oggi è un altro giorno e si ragazzi quest'oggi è il primo maggio quest'oggi inizia maggio inizia con una bellissima festa quella dei lavoratori ma cosa che cosa significa che farò festa anche io beh ragazzi vi posso dire che l'andamento del carane mi sta piacendo tantissimo nell'ultimo periodo avete sostenuto tantissimo il let's play di Kirby e quindi adesso che si fa beh la vera risposta è per il momento possiamo dire che siamo arrivati a un punto tale del canale che per un mese cercherò di non pubblicare tanti video questo cosa significa che usciranno all'incirca massimo 3 video alla settimana forse 4 se ci sono cose importantissime da fare ma per il momento andiamo più calmi con il canale il canale sta crescendo tantissimo i video sono tantissimi come sono tantissimi anche gli iscritti funziona in questo mese più sull'inshort per accrescere di più la visualizzazione del canale e se voi non avete visto determinate serie o l'avete vista a metà per non avere tempo andatevele a riprendere in questo mese non usciranno serie che cosa uscirà invece? beh sicuramente usciranno dei contenuti che tutti voi vorreste vedere dei contenuti un po' soft per far continuare comunque il processo del canale quindi Minecraft Vanilla finiremo anche la Skyblock a fine mese a fine maggio poi faremo anche altre Bedors faremo live insieme faremo anche Speedrun faremo un challenge sia su questo canale che sul mio canale Mattia Elias Speedrun quindi andatevelo a vedere ragazzi perché dobbiamo anche aumentare lì di iscritti e poi dobbiamo fare tantissime altre cose dobbiamo anche giocare su Stambol giocare contro il Barbaro e ci saranno anche altri ospiti in più vi invito come al solito ad iscrivervi al canale perché per lo speciale dei 1500 iscritti ho preparato una cosa epica e come anche per lo speciale dei 2000 iscritti quindi ragazzi mi raccomando like iscrizione e campanella e noi ci salutiamo quest'oggi sperando che questo mese possa essere un rinnovamento più totale detto questo ciao a tutti e se qualcuno mi vuole consigliare comunque delle serie o mi vuole mandare degli D di Mario Maker 2 da poter giocare fatelo già da adesso perché già da adesso io inizierò a raccogliere dei codici per il display di Mario Maker 2 che probabilmente farò verso ottobre novembre di quest'anno quindi ragazzi fatelo al più presto più idea abbiamo più divertimento c'è detto questo ciao a tutti